...una vittoria della linea Grillo, opposizione dura e nessun dialogo con gli altri partiti. Questo conferma che quando un gruppo è compatto contano più gli ideali e le giuste idee rispetto al numero dei rappresentanti. Soddisfatto Grillo che commenta le sanzioni ai 26 deputati a 5 Stelle per le proteste d'aula sul decreto Banca Italia sono 26 medaglie per il Movimento.